Vi faccio vedere brevemente a cosa serve il questionario come atto finale. Il questionario, come potete vedere, non raccoglie nessun dato, ma bensì dice quante persone hanno partecipato al questionario. Come potete vedere, finora hanno partecipato 14 persone e poi le divide in percentuali, come per esempio in questo caso. In che fascia d'età magari uno appartiene? Oppure da dove vivi? Cioè serve soltanto a riuscire ad avere una percentuale riguardante la problematica specifica che è l'ostracismo. Percentuali che serviranno ad avere dei numeri. Numeri da poter proporre alle autorità competenti. Quindi nessun dato viene registrato attraverso questo questionario.